Mattia e Andrea, due compagni di classe che siete arrivati tutti e due sul podio di questa Young Marathon. Chi è stato il più bravo? Quanto sei arrivato? Io sono arrivato circa il numero 13. Circa il numero 13, quindi sei arrivato terzo. Tu invece sei arrivato secondo. Sono terzo. Chi è Mattia di voi due? Io. Tu sei Mattia e tu quindi sei Andrea. Qui sei stato più veloce Andrea. Ti sei divertito? Sì. Domenica cosa farai? Anche la gara con i grandi? Sì. E da grande cosa vuoi fare? Il maratoneta? Non ci devo ancora pensare. Si deve ancora pensare. Tu vorresti fare il maratoneta? No, ci devo ancora pensare. Cosa vuoi fare tu? Baschi. Baschi. Ciao Nicole, è stata una gara difficile? Così, così. Così. Perché così, così? Quanti anni hai tu innanzitutto? Cinque. Sei divertita comunque? Sì. Mi racconti un po' con la tua gara. Come sei partita? Ti ho detto così. E poi? Quanti anni hai? Cinque. È stata una corsa difficile? Sì. Come ti sei impegnata? Hai avuto paura di non arrivare prima? Sì. Ti piace fare queste corse, queste manifestazioni? Sì. E domenica sarai con la mamma e il papà anche? Raccontami qualcosa, dove andrai? Non lo so. Andrai a correre la bavisela? Sì. Con tutti quanti? Sì. E speri di fare il risultato? Sì. Cosa? Prima anche di nuovo? Sì. Brava, complimenti. Grazie. Vuoi salutare i tuoi amici? Cosa vuoi dire? Ciao. Ciao.